Esiste qualcosa sulla terra di più difficile, avvilente, frustrante del gesto di un cittadino normale? Quindi uno che non ha amici nelle forze dell'ordine, in politica in generale. Esiste un gesto più disperato del tentativo di un cittadino normale di fare ricorso ad una multa? No. Esistono ancora persone che nascono forti di spirito e che in età adulta prendono coraggio e si mettono a fare tutte queste cose terribili, burocratiche, queste procedure che lo Stato e le compagnie energetiche hanno messo a punto per demotivare proprio il cittadino. Ecco, esistono queste persone che sono super dotate di tigna, costanza, pazienza, decise a ritagliarsi del tempo libero per rompere i coglioni. Questi supereroi del ricorso hanno una vita straordinaria, dormono pochissime ore a notte, spendono magari 100-120 euro a settimana per le cartucce della stampante, che a un certo punto, no, ma perché non te paghi la multa a quel prezzo libero? No. E loro mettono questo investimento dentro la loro stampante per produrre centinaia di moduli che compilano in maniera mefistofelica, proprio usando la tigna al posto dell'inchiostro. Sono persone bizzarre che si mettono a sistemare la casa mentre lasciano il proprio telefono in viva voce, attendendo di essere ricevuti da un operatore. E loro nel frattempo puliscono, sistemano e ad un certo punto Vivaldi viene in odio, no? Perché due ore e un quarto, anche le quattro stagioni, alla fine spaccano i coglioni. Ma alla fine rispondono, perché la perseveranza paga, sempre, ma non le multe. Risponde l'operatore del call center, un povero laureato sottopagato, su cui, come è ovvio, il supereroe del ricorso a un certo punto si accanisce. Ma per poco, perché come d'incantesimo, appena la linea viene presa subito cade. A quel punto, persino i supereroi li vedi che hanno un attimo un cedimento. Ma si risistemano i nervi e sono pronti a scrivere caterve di mail a servizio clienti chiocciola, sono pronti a raggiungere gli uffici di riscossione con la loro cartellina gonfia di documenti difensori, per difendersi dai giudici di pace, dalle compagnie, appunto, telefoniche, ma non solo, e dallo Stato che dovrebbe proteggerli. Ma questa è un'altra storia. Fanno cose veramente assurde queste persone, dormono davanti alle poste per riuscire in qualche modo a dribblare l'orda anziana quando arriva al mattino, i novantenni che non hanno nulla da fare, teneteveli in casa, vivono anche in macchina per riuscire a prendere il numeretto, il primo numeretto all'agenzia delle entrate, per essere ricevuti allo sportello ed aprire assieme ai portieri. E fanno tutto questo e alla fine sono esausti. Sono esausti, non hanno più niente nella vita, perché tutto è stato investito in queste cause. Quindi i supereroi del ricorso tornano finalmente a casa e si trovano nella cassetta della posta l'ennesima ingiunzione di pagamento. Ed è lì, in quel preciso punto, in quel preciso momento che può nascere il terrorismo.